Sorpassata la metà del mese di luglio, la stagione 2021 compie il suo giro di boa e titolari e gestori delle strutture ricettive possono tracciare un primo bilancio dell'estate che è stata e di quella che sarà. Se qualche ritardo e incertezza hanno dato il via alle danze nel mese di giugno, agosto si prospetta essere il mese caldo per le partenze e gli arrivi nel Pesarese, con la speranza che gli eventi già programmati favoriscano anche le presenze di settembre. Per quello che riguarda le prenotazioni, fino ad oggi le presenze sono state abbastanza basse, dalla settimana scorsa a questa settimana invece gli alberghi vanno verso il riempimento, ovviamente questa è la media perché ci sono alcuni alberghi che sono pieni e altri che comunque hanno una presenza ancora non soddisfacente. Al momento noi non abbiamo disdette per la minaccia della zona gialla delle Marche o per i contagi che aumentano, certo bisogna fare attenzioni, voglio dire in altre località hanno già provveduto a combattere in modo serio gli assembramenti, producendo praticamente come effetto la chiusura dei locali non solo per la gente che c'era dentro i locali ma anche per gli assembramenti che c'erano intorno ai locali. Allora io non chiedo questo alle autorità ma chiedo di vigilare molto perché ovviamente ci sono al di là della musica, del rumore eccetera, adesso il problema che temiamo di più sono gli assembramenti per il discorso del Covid anche perché magari qualcuno di questi può essere anche cliente dell'albergo quindi ci possono essere conseguenze serie. Quindi noi vorremmo finire, adesso a fare una frase forte, vorremmo finire la stagione con serenità visto che questi ultimi 40 giorni, 50 giorni sono un po' il riscatto della situazione che possono portare comunque alle aziende alberghiere meno perdite perché comunque questa sarà una stagione con un bilancio in negativo però con molte presenze se tutto va come deve andare. L'anno scorso pur avendo aperto più tardi, quindi molti alberghi hanno aperto a fine giugno e primi di luglio, in realtà le presenze negli alberghi si sono avuti dalla fine di luglio e per tutto il mese di agosto. Quest'anno abbiamo in più il mese di settembre perché abbiamo due eventi sportivi importanti che sono i campionati over 40 europei di basket che dal 13 subito dopo la fine di San Nicola porteranno 1500 persone quindi oltre più di 10.000 presenze e i campionati europei di ginnastica organizzati dalle esattori in collaborazione per la sistemazione alberghiere con l'APA che daranno lavoro per altre tre settimane per cui diciamo è un settembre buono. A livello di bilanci probabilmente avendo aperto le strutture prima non è che è andata meglio perché abbiamo avuto dei costi fissi che non siamo riusciti ad ammortizzare ad esempio nel mese di giugno perché le presenze purtroppo sono state un po' al di sotto delle aspettative in giugno. I turisti a Pesaro sono per lo più italiani e ci sono anche stranieri? Ma direi quasi esclusivamente italiani, quindi veramente una percentuale sotto le delle cifre di stranieri quindi anche il ROF quest'anno che ha dei posti limitati porterà sicuramente meno stranieri. Confermata anche per la seconda metà della stagione la convenzione relativa al prezzo calmierato dei tamponi per dipendenti e turisti e l'attivazione di nuovi posti auto nell'area del Santa Marta per i clienti delle strutture ricettive di Levante. I tamponi rimangono le convenzioni con le farmacie comunali che con 12 euro a chiamata si fa la prenotazione e si fa immediatamente a fare il tampone veloce quindi nelle farmacie dei via le fiume di Soria. Per quello che riguarda i parcheggi proprio stamattina abbiamo finito di mettere i cartelli quindi partiti a questa iniziativa di 60 posti auto fino alla fine di agosto già alcuni albergatori hanno provveduto a ritirare i coupon presso l'associazione di albergatori vorrei anche precisare che i parcheggi non sono gratuiti perché comunque un contributo l'abbiamo dovuto dare e quindi abbiamo dovuto ripartire poi il costo però l'importante è risolvere il problema, non è un problema di costi.